Musica Grandinata primaverile a Pian di Rose di Sant'Ippolito, strade imbiancato, invase d'acqua e fango, un sottopasso allagato e auto costretta a fermarsi, emessa un'allerta meteo di livello giallo valida fino alla mezzanotte di domani. Vendevo online, bici rubate, spacciandosi per medico, la questura pubblica le foto dei mezzi ritrovati per cercare i legittimi proprietari. Ecco come sarà il nuovo sottopasso di Viale Cairoli a Fanno, la struttura sarà larga 4,10 metri e lunga 130, sarà ciclo pedonale e senza barriere, i lavori termineranno entro il primo quadrimestre del 2024. Rotatoria pericolosa di via Moriconi a Rosciano di Fanno, aperto il tavolo tecnico per trovare soluzioni e mettere in sicurezza conducenti e pedoni. Ponti e festività, i ristoratori sono soddisfatti, locali pieni e tante prenotazioni, ma pesano ancora i rincari generalizzati. Osservare con l'udito passeggiando in città, presentata Fanno, la proposta originale di Lavo, scuola di musica, lingue e disegno. Gordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, le questure di Forlì e di Pesero Urbino al termine di un'operazione congiunta hanno pubblicato sulle rispettive pagine Facebook le foto delle bici rubate, elettriche e non rivenute nei giorni scorsi. L'operazione aveva riguardato diversi furti compiuti all'interno di garage condominali. I poliziotti avevano perquisito alcuni immobili situati a Fanno, Gradare e Forlì nella disponibilità di un trentenne pregiudicato di origini albanesi che spacciandosi per un inesistente medico dell'ospedale Bufalini metteva in vendita sulla rete biciclette che alcune persone avevano riconosciuto come proprie. L'uomo è indagato per il reato di ricettazione. L'attività inoltre aveva permesso il ritrovamento di una trentina di biciclette, due monopattini elettrici e un casco griffato Valentino Rossi. Le immagini del materiale in sequestro sono pubblicate per agevolarne il riconoscimento e la restituzione agli eventi diritto. Se qualcuno le riconosce può contattare gli uffici della squadra mobile di Forlì o inviare una mail a squadramobilequesturadipesarocchiocciolagmail.com indicando un recapito telefonico, il riferimento di contatto e una breve descrizione dell'oggetto e delle circostanze del furto, cioè dove e quando è stata sporta denuncia. Un'improvvisa grandinata primaverile si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi a Pian di Rose nel comune di Sant'Ippolito. Le foto e i video girati dai nostri reporter di strada mostrano una imbiancata con chicchi di grandine che hanno costretto molti automobilisti a fermarsi. È andata peggio a quattro conducenti che lungo la superstrada avevano accostato a lato della careggiata ma sono finiti nel fossato. Per fortuna non si registrano feriti, sul posto è intervenuta la polizia stradale di Urbino, allagato anche il sottopasso della zona industriale dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il traffico è stato temporaneamente deviato. Al lavoro, come ci ha riferito il sindaco Marco Marchetti, anche la protezione civile e i dipendenti comunali. Diverse infatti le strade in vase da acqua e fango. La protezione civile regionale alle 13.30 aveva emesso un allerta meteo per temporali di livello giallo. Il provvedimento resterà valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 21 aprile. In particolare, il bollettino indica che dal pomeriggio di domani sulle zone collinari e montane si avranno temporali sparsi anche di forte intensità. Questa mattina il Comune di Fanno e RFI hanno presentato il nuovo sottopasso di Viale Cairoli a Lido di Fanno. La struttura, lunga 130 metri, sarà a ciclo pedonale e senza barriere, ma vediamo i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Nuovo sottopasso Cairoli, finalmente ci siamo. Presentati questa mattina, alla presenza di RFI e amministrazione comunale, i lavori di riqualificazione del collegamento città-mare, che sarà più accessibile e funzionale per tutti. Con questo intervento il tratto sarà sia pedonale che ciclabile. È un intervento che ci ha interessato in questo momento nella fase progettuale. Prevederemo adesso l'inizio dei lavori a giugno di quest'anno. Partiremo lato monte, per spostarci poi lato mare alla fine della stagione estiva, proprio per garantire tutto il flusso stradale, quindi tutte le attività estive, lato mare rimarranno del tutto invariate. Quindi cercheremo di dare meno soggezioni possibili. Si tratta di un intervento, diciamo, di un sottopasso che sarà a largo 4,10 metri, alto 2,5 metri e profondo, diciamo, quindi lungo per circa 130 metri. Nasce con l'obiettivo molto importante di mettere il cittadino al centro del progetto. Si abbatteranno tutte le barriere architettoniche, ci saranno i percorsi tattili, quindi effettivamente molto illuminato. Quindi sarà effettivamente un intervento di riqualificazione davvero importante. Anche noi come rete ferroviaria italiana la sostenibilità è diventata uno degli elementi fondamentali. Di consentire, con la mobilità sui treni, di consentire alle persone di viaggiare in maniera sicura e cercando di rispettare gli standard di puntualità. Anche in questo caso mettere al centro degli obiettivi, come in questo caso il cittadino o la persona, secondo noi è un aspetto fondamentale. Il costo dell'opera è di 2 milioni di euro erogati da ferrovie e 500 mila dal comune. I lavori che inizieranno nei primi di giugno prevedono l'abbattimento di 18 alberature. Infatti sarà ampio l'intero percorso che inizierà dalla zona delle poste per arrivare fino al bar. Da sottolineare che questi interventi non intaccheranno la circolazione ferroviaria. Durante le opere non ci saranno assolutamente soggezioni alla circolazione ferroviaria. Quindi si utilizzeranno delle metodologie già ovviamente sperimentate, utilizzate in tutta la rete ferroviaria italiana per garantire la massima sicurezza e il passaggio dei treni in continuità con le opere che sono in fase realizzativa per il sottopasso. I disagi passano ma le opere restano. Ha esordito il sindaco Seri in vista dei possibili problemi durante la stagione estiva. Chiediamo un po' di pazienza ma il risultato sarà d'impatto. Era un sottopasso ormai vetusto con delle barriere. Oggi andiamo a fare una grande realizzazione grazie a RFI con questa grande collaborazione. Un'opera straordinaria che sarà in parte in trincea, in parte in galleria. Un'opera ciclopedonale che va a battere tutte le barriere ma soprattutto è un'opera di decoro, di comodità e un'infrastruttura che andrà a cambiare in meglio il volto di questa zona. Quindi non possiamo nascondere la grande soddisfazione per questa grande opera importante che solo qualche anno fa magari nessuno si aspettava ma oggi è diventata concretezza. Un altro rendering che si realizza. Il prossimo step poi sarà la riqualificazione completa del sottopasso di via Nazario Sauro con l'abbattimento dell'ex casello ferroviario che metterà così in collegamento in un'unica passeggiata la Darsena Borghese fino al faro del porto. Ed ora torniamo a parlare della rotatoria di via Moriconi a Rosciano di Fano perché dopo le segnalazioni dell'Udc su rischi e pericoli per automobilisti e pedoni e la Prodo in Consiglio Comunale grazie a Fratelli d'Italia è stato convocato il tavolo tecnico durante il quale sono state avanzate diverse soluzioni. Scarsa visibilità e opere mancanti. I poligioni dopo le segnalazioni e il suo interessamento sulla rotatoria di Rosciano lungo la bretella di via Moriconi via Siriani. È stato fatto un altro passo avanti molto importante. Sì, sette mesi di lavoro, siamo arrivati al traguardo ma siamo arrivati diciamo alla linea del traguardo dobbiamo andare avanti. Abbiamo avuto un tavolo tecnico organizzato dall'assessorato ai lavori pubblici nel quale sono stato convocato e partecipato e attraverso questo tavolo tecnico abbiamo rivisto bene la situazione quindi ho riscontrato che c'era la volontà di voler trovare una soluzione sono state valutate delle soluzioni insieme ai tecnici presenti che adesso dovranno essere realizzati. Per esempio il problema della rotatoria chiaramente abbiamo evidenziato che il pericolo sulla rotatoria di Rosciano 1 come già avevamo detto era dovuto al fatto che non c'era visibilità a sinistra e chi arrivava da via Moriconi spesso per disattenzione e un tratto stradale che invita la velocità non si fermava sul dare precedenza con il rischio di collisione. Abbiamo visto che questa non visibilità è causata dai pannelli fonoassorbenti che sono posizionati in una maniera che secondo anche i tecnici è comunque da rivedere anche insieme alla società autostrade. È stato dunque un lungo percorso che era partito dalle segnalazioni che avevate raccolto da parte dei cittadini. Sì, esatto. Intanto premetto che i cittadini avevano già fatto segnalazioni qualche tempo prima al sindaco. La stessa cosa ho fatto io quando sono venuto a conoscenza della situazione e non abbiamo mai ottenuto risposta. Ci tengo a dire comunque che abbiamo fatto un percorso importante perché abbiamo dovuto ricontattare la società autostrade e tutto quello lì che è l'ambito che ha portato avanti il progetto e l'avrebbe potuto fare tranquillamente l'amministrazione se avesse ascoltato nonostante oltretutto, voglio dire, al sindaco fu segnalato il pericolo di quella rotatoria e quindi credo che avrebbe dovuto dare risposte immediate. Invece c'è stato il silenzio. Tarsi, la questione era poi approdata anche in Consiglio Comunale, grazie a lei. Sì, ho accolto con molto piacere l'invito di Pollegioni a portare questo tema in Consiglio Comunale perché è un tema molto sentito dal quartiere di Rosciano ma in generale è un tema molto diffuso in città perché le opere compensative dobbiamo ricordarlo che hanno tagliato la città. Hanno tagliato la città tra i quartieri che sono a valle delle opere compensative e quelli che sono a monte. Perché? Perché lungo le opere compensative non ci sono gli attraversamenti pedonali e quindi questa cosa mette in grandi difficoltà anziani, mamme con le carrozzine, bambini o ragazzi che vogliono andare in bicicletta a scuola. Quindi il tema adesso che viene proposto a proposito della rotatoria di via Moriconi in realtà potrà vedere un'estensione lungo tutto il percorso. E quindi i tecnici che io approfitto per ringraziare perché i tecnici, l'ingegner Fabri e i tecnici del Comune si sono dimostrati veramente molto attenti hanno raccolto la vera preoccupazione e hanno capito qual è il rischio reale e adesso dovranno procedere con una serie di passi. Il primo passo sarà un passo amministrativo, la declassificazione della strada e poi successivamente dovranno essere fatte delle attività di progettazione per finalmente inaugurare degli attraversamenti pedonali e ciclabili. Ci vorrà del tempo ma noi solleciteremo, saremo molto attenti e continueremo a seguire i lavori dell'amministrazione. Scontro frontale tra due auto oggi pomeriggio alle 15.15 sulla strada provinciale Trefogliense nel comune di Macerata Feltre in provincia di Pesero Urbino. I vigili del fuoco in collaborazione con i sanitari del 118 hanno estratto gli occupanti dei due mezzi dalle autovetture che poi sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche l'eleambulanza e i carabinieri di zona. Un altro incidente si è verificato questa mattina in via del fiume Afano all'altezza del Civico 10. Coinvolti nel sinistro una Mitsubishi Pajero condotta da un fanese di 80 anni e una Fiat Panda guidata da una 72enne fanese. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale è emerso che i due veicoli stavano transitando in direzioni opposte quando forse a causa degli autoveicoli in sosta si sono urtati. A seguito dell'impatto la Panda è stata sospinta contro il furgoncino che era in sosta. La signora alla guida della Panda, pur spaventata, nell'immediatezza non ha richiesto le cure sanitarie. Rimaniamo Afano dove si è tenuto un importante convegno che ha visto protagonisti gli enti locali e il terzo settore per progettare insieme il futuro. Sala Grimita, la fondazione Carifano per il convegno intitolato Amministrazione condivisa e coprogettazione, governare il presente e il futuro degli enti locali. L'incontro organizzato dall'ACLI di Pesero Urbino e da altre associazioni si è svolto alla presenza di relatori di caratura nazionale. Oltre 80 le persone, tra amministratori regionali e locali e rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che hanno seguito con vivo interesse i vari interventi che si sono susseguiti dedicati ai processi e agli strumenti dell'amministrazione condivisa spaziando dalle indicazioni della normativa di riferimento, il codice del terzo settore e la sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale fino all'effettiva applicazione sui territori passando per alcune buone prassi già realizzate. È emersa un'importante fase storica del nostro paese dopo l'approvazione della sentenza nel luglio del 2020 sull'amministrazione condivisa e che ha portato e ha certificato che gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione alla pari sono soggetti del bene comune delle loro comunità siamo in un momento in cui due principi fondanti stanno alla base di questa tematica e sono stati ben illustrati da Erika Capasso la presidente della fondazione urbana del comune di Bologna e anche delegata al terzo settore del sindaco Lepore l'esperienza di Bologna che è stata portata come buona prassi ha proprio dato a noi e naturalmente i partecipanti lo hanno anche come dire proprio approfondito il patto territoriale per l'amministrazione condivisa con il terzo settore cioè un patto costruito con un processo partecipativo e un patto che di fatto mette sul concreto e quindi dà una risposta sia alla sentenza della Corte Costituzionale sia soprattutto anche l'articolo 55 che è l'articolo con cui la riforma del terzo settore definisce i processi di coprogettazione e coprogrammazione Che importanza hanno questi percorsi partecipativi? Le politiche pubbliche o sono partecipanti o non sono politiche pubbliche Questo è l'assioma importante con cui il terzo settore sia nel suo contesto del welfare ma anche negli altri contesti della pubblica amministrazione anche l'urbanistica, anche altri contesti che in questo momento poi sono all'ordine del giorno del nostro comune sono il pilastro dei processi con cui i cittadini codecidono con le amministrazioni le linee sulle quali costruire nei loro territori le politiche Ottimo inizio di primavera per i ristoratori che grazie alle festività pasquali del 25 aprile e primo maggio raggiungono dati importanti e soprattutto positivi Marco Lonigro ha fatto il punto della situazione con Mario Di Remigio presidente provinciale dell'Associazione Ristoratori Segnali positivi per il settore della ristorazione che dopo anni complicati torna ad ottenere dati importanti sfruttando le festività pasquali il weekend lungo del 25 aprile e quello del primo maggio Partiamo con un bilancio, come è andato il lungo weekend di Pasqua? In tutta la provincia si è registrato Pasqua, tutto esaurito, anzi era da tempo che non si vedeva tutte queste prenotazioni, addirittura da qualche settimana molti ristoranti erano tutti pieni Logicamente Pasquetta poi dopo è un po' a scemare però diciamo che sia la costa che l'entroterra è regito bene al weekend di Pasqua Quello che soprattutto poi Pesaro in più aveva confronto magari ad altre città è che c'erano dei tornei organizzati sportivi quindi era praticamente full, tutto pieno e soprattutto gli alberghi non offrivano la pensione completa quindi c'era un sacco di gente che girava per andare a mangiare poi logicamente si è riversata nei ristoranti Dunque finalmente un sorriso dopo la pandemia e i tanti rincari Quest'anno è la prima volta che si ritorna a dei numeri e delle cose che sono pre-pandemia L'unica cosa che a differenza da prima della pandemia è cambiata fino adesso sono tutto quello che è stato il percorso quindi i rincari che ci sono stati, i due o tre anni in cui purtroppo la nostra categoria si è dovuta indebitare e quindi adesso è l'ora in cui noi dobbiamo pagare tutto questo In questo anno insomma c'è stato un aumento più o meno dei costi generali intorno al 50% e non sono stati praticamente riversati nei clienti abbiamo dovuto assorbire quel sovraplus di spese senza poi poterli scaricare Ma qual è la previsione in vista delle prossime ed imminenti festività? Guarda, il punto del 25 aprile sicuramente potrebbe essere come Pasqua perché il punto è lungo, la gente si sposta Pesaro, ripeto, confronto magari ad altre città ha sicuramente degli eventi sportivi che potranno portare un sacco di gente qui a Pesaro e se poi qui tutto adesso è in base al tempo se c'è il sole penso che la gente si gira, si sposta, si muove senza nessun problema anche perché Pasqua è stato anche determinante il tempo diciamo bello quindi c'è stato il sole, non è piovuto anche se un po' freschino la sera però voglio dire, tutto sommato è stato delle condizioni climatiche favorevoli per far sì che la gente sia spostata sia dal mare verso l'entraterra che dall'entraterra verso il mare Tappi alle orecchie, paluncino in mano per capire come le persone ipoudenti sentono la musica è solo una delle iniziative presentate questa mattina a Fano e rientranti nel progetto Paesaggi Sonori ce ne parla Massimo Foghetti è stata presentata nella saletta del Politeama di Fano dall'assessora alla cultura e all'ambiente Cora Fattori l'iniziativa Paesaggi Sonori si tratta di una piccola rassegna sperimentale dedicata al suono promossa da Labo, scuola di musica, lingua e disegno rappresentata da Eleonora Fiorani da Aras Edizioni di Federica Savini dallo stesso Cinema Politeama con la collaborazione di Arcadia e dell'ente nazionale Sordi l'evento si organizzerà in cinque giornate strutturate in due passeggiate sonore in città due conferenze e una proiezione cinematografica tutti gli incontri saranno al Cinema Politeama con ingresso libero Labo è un laboratorio di via giustizia dove si crea, si studia, ci si appassiona e si condividono esperienze una di queste riguarda l'attenzione all'udito tra musica e rumore si incomincia con una passeggiata alla scoperta dei suoni in città con partenza alle ore 11 di sabato dal Politeama si compila un questionario e si ritorna alle 15.30 quando ad attendere i partecipanti ci saranno Marco Monari e Alessandria Calanchi che valuteranno i dati sabato 29 aprile alle ore 11 è previsto un incontro su una percezione alternativa la musica da parte dei sordi giovedì 4 maggio si procede con la proiezione del film Amusia il 6 con un incontro sul canto come fattore biologico e il 13 maggio si ripete la passeggiata sonora a Fano un modo per farci capire che i paesaggi non vengono solo visti ma vengono anche ascoltati e molte volte ci dimentichiamo di ascoltarli l'udito sembra quasi un senso di serie B quando non è affatto così è molto importante avremo un incontro con l'ensenente nazionale sordi in cui metteremo a tutti i partecipanti i tappi per le orecchie daremo un palloncino gonfio per capire come ascoltano le persone che sono ipodenti poi ci sarà un film per spiegare la patologia della musia perché esistono persone che sentono, ascoltano ma non percepiscono la musicalità e questo è una patologia che molto spesso sottovalutiamo c'è anche però un aspetto sgradevole del suono che è quello dell'inquinamento sonoro la nostra difficoltà è che quando i cittadini ci chiamano per poter fare le misurazioni noi dobbiamo riferirci all'ente ARPAM che è dotato di tecnici bravissimi e che ringraziamo ma purtroppo sono sotto organico stiamo per questo predisponendo una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche è la prima volta l'obiettivo è un suggerimento, una proposta per esempio prima di coscientizzare la differenza fra rumore e suono che tanti musicisti fanno nell'approcciarsi anche alla musica elettronica è quella di innamorarsi dei suoni quindi ciò che ha disarmania potrebbe essere nel giusto contesto trasformato in un genere lo showgaze, il lo-fi sono tutti generi amati dai ragazzi e i ragazzi hanno bisogno di dialogare anche con altre generazioni quindi anche un'idea di avvicinamento fra le generazioni per esperire a livello acustico la realtà perché il suono ci lega tantissimo crea la nostra voglia di apprendere la nostra spazialità e spesso è molto trascurato o subissato rispetto al monopolio della visione abbiamo deciso di dar vita a questa rassegna per raccontare il territorio anche attraverso il suono un suono che poi può essere riportato nella pagina attraverso delle pubblicazioni sicuramente originali da contenuti direi insoliti quindi leggeremo il suono? leggeremo anche il suono sì, le dirò di più probabilmente nel futuro leggeremo molto anche con le orecchie se pensiamo a podcast, audiolibri quanto anche queste nuove forme di comunicazione stiano prendendo piede devo dire che sì la lettura e il suono potrebbero andare di pari passo molto più di quanto ci possiamo aspettare soprattutto nel futuro anche quest'anno i soci del Rotary Club Fano si sono incontrati per una serata conviviale la mensa opera Padre Pio di San Paterniano per l'occasione il presidente Alessandro Principi ha consegnato a Mauro Guerri presidente dell'associazione San Paterniano Ollus un contributo da parte del club per ringraziare per quanto ricevuto il presidente Guerri ha illustrato le attività svolte dal centro in particolare il servizio mensa in questi ultimi anni il numero delle persone che ne usufruiscono è notevolmente aumentato dai circa 33 mila passi di alcuni anni fa si è passati ai circa 60 mila del 2022 inoltre dal maggio scorso il centro ospita 18 profughi ucraini un altro contributo invece è stato consegnato a Sor Francesca madre superiore delle piccole suore missionari della carità che gestiscono la residenza protetta Casa Serena Bellocchi di Fano un'importante realtà che accoglie 28 ragazze e donne in stato di disabilità e che il Rotary continua a sostenere domenica 23 aprile cambiamo argomento la compagnia dialettale Mazzamurei va in scena al teatro La Fenice di Senigallia con una nuova commedia allora sentiamo le interviste ad alcuni dei protagonisti dello spettacolo domenica dunque tornerete sul palco del teatro di Senigallia intanto come si intitola la commedia? la commedia si intitola La storia fantastica di Pasquale Tartaglia Tartaglia sarebbe Tartaglia che balbetta in dialetto senigallese si dice cuccuma e di cosa tratta? Tratta è di una famiglia orientata sugli anni 80 diciamo con poco reddito inaspettatamente gli arrivano dei ospiti parenti che erano 30 anni che non vedevano più che chiedono ospitalità questa famiglia di 5 persone si trova in difficoltà però ecco tratta anche c'è un pezzone un po' di paranormale che danno risalto sulla trama della commedia come vediamo anche dalla locandina andrete in scena nel pomeriggio? si domenica pomeriggio alle 17.15 dove è possibile acquistare i biglietti? i biglietti si acquistano al botteghino del teatro di Senigallia alla Fenice il giovedì dalle 10.30 alle 12.30 il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20 oppure domenica prima del spettacolo dalle 15 fino all'inizio spettacolo se no online c'è vivaticket.com Manuela in quanti sarete domenica? allora siamo 11 attori poi ci sono i vari collaboratori per i costumi per il gobbo per le sceneggiature e le coreografie siamo un gruppo molto affiatato e ci divertiamo anche durante le prove è una cosa bellissima è una commedia sia molto divertente che anche un risvolto sentimentale e quindi non potete assolutamente mancare quale sarà la tua parte? allora io ho addirittura due parti completamente diverse una dall'altra nel primo atto interpreto la cognata del capofamiglia e mentre nel secondo atto interpreto una notaia che ha l'ingrato compito di dare delle notizie importanti a questa famiglia vi lascio con un minuscolo pezzettino che dirò domenica adè io vago via almeno più a stasentimo a sto ciambotti e la località di Ronco San Basso a Fano si fa sempre più bella grazie alle opere realizzate gentilmente donate alla collettività dallo scultore fanese Giannino Vincenzi che ha posto le sculture nei pressi della chiesa l'ultima con al centro una grande rosa è stata installata nei giorni scorsi mentre quella che vedete a destra dello schermo è stata installata oggi ora invece apriamo l'album di Fano TV perché dobbiamo fare gli auguri a Eliana Costantini e Marcello Gudassi residenti a Colli al Metauro che oggi festeggiano 55 anni di matrimonio auguri da parte dei figli e dallo staff di Fano TV vi ricordo che domani pomeriggio dalle ore 17.30 Fano TV trasmetterà in diretta dal Teatro della Fortuna la cerimonia di consegna del premio alla fortuna d'oro assegnato dalla commissione a Francesco Tonucci e Carlo Simoni invece lunedì prossimo 24 aprile il sindaco di Senigallia Massimo Rivetti sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino tra poco subito dopo le previsioni del tempo andrà in onda uno speciale dedicato all'assegnazione delle borse di studio da parte della Banca di Credito Cooperativo di Fano buona serata a tutti su Fano TV